Piaciuto lo spettacolo? Bellissimo, veramente bello, meritava di essere visto, peccato che non c'era molto pubblico, però meritava veramente di essere visto, belli, bravi, veramente dei professionisti, sono contenta. Lei? È la tematica che è molto attuale, cioè in questo momento di guerra, tra l'altro, mi è sembrato particolarmente vicino alla nostra sensibilità questo testo. Abitualmente siete delle frequentatrici del Teatro Pirandello? Sì, abbiamo l'abbonamento. Ecco, delle abbonate, affezionate, come sta andando, come va la stagione? Beh, io veramente è solo la seconda che vedo, la prima volta c'era sicuramente molto più pubblico, ma speriamo che continui ad andare bene. Io ho fatto l'abbonamento proprio perché mi ha convinto il cartellone di quest'anno, quindi tutti e tre gli spettacoli fino ad ora non mi hanno delusa. Piaciuta la classe? Assolutamente sì, momenti intensi, momenti di pathos e soprattutto dei riferimenti all'attualità che fanno pensare. Uno spettacolo che ti lascia senza fiato, ti lascia in sospeso fino alla fine, da seguire fino all'ultimo istante, è veramente bello. Piaciuta la classe?